Questo è un grande rosso da uve Barbera, la Barbera è un vitigno piemontese prevalentemente ma si coltiva anche nell'Oltre Poppavese, anche in parte nel Piacentino. Questo qui è di Nizza Monferrato ed è un Nizza Riserva 2016, lo produce Olimbauda dei fratelli Bertolino ed è una delle migliori aziende in assoluto per la Barbera e per il Nizza, che è un po' la quintessenza, l'Eden della Barbera, il punto di riferimento, la Rolls Royce potremmo dire anche. Questo è un grande vino rosso perché è maturato in piccoli fusti, in turno da 500 litri per circa due anni e mezzo ed è un vero vino, come dire, non da tutti i giorni, però un grande vino, ogni tanto ci si può permettere anche un vino del genere. Bene, 2016, grande annata, proviamo a vedere che cos'è. Il colore è un colore molto intenso, un rubino molto intenso, addirittura con delle connotazioni quasi bluastre. I profumi sono speziati, ci sono note sicuramente che derivano dal legno nuovo, ma anche note di viola, di amarena, che sono i tipici profumi che i grandi vini da Uwe Barbera hanno. Proviamo a assaggiarlo. Beh, è un vino di grande struttura, ha un calore alcolico non indifferente, credo che abbia qualcosa come 15 gradi alcolici, quindi non è un vino leggero, è un vino avvolgente, i tannini sono molto composti e la persistenza è straordinaria. Come usarlo? Ma sicuramente abbinandolo con i grandi piatti della tradizione piemontese, dai tagliarin con il ragù, ai bolliti, agli arrosti, tipici piatti di quelle zone lì. E questo è veramente una delle grandi barbere della tradizione barberista, se mi consentite il gioco di parole, del Piemonte. È Olimbauda, Mizza, 2016, riserva. Grazie a tutti.